Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori appena morto in un incidente stradale, un tremendo scontro tra auto e moto, è costato la vita ad un uomo di 70 anni, prima di sapere di più vi ricordo che a 200 like pubblicherò immediatamente un nuovo video, un grave incidente stradale è avvenuto a Novara tra Gozzano e Borgo Manero dove per cause ancora da accertare un'auto e una moto si sono scontrate nello schianto, ha perso la vita, il motociclista sebbene sul posto siano giunte tempestivamente sia le forze dell'ordine che i sanitari per l'uomo non c'è stato nulla da fare amici di Youtube, io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video seguitemi anche sul Prima di Marco Liguori, il canale principale seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguori, psicologia e crescita personale seguitemi su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok ciao a tutti grazie a tutti